partiti passa Queen Charlotte davanti a Talete piccola piccola Madame Bianca Pegasus e lasciala andare all'inizio della curva è in vantaggio Queen Charlotte davanti a Talete piccola piccola Pegasus lasciala andare Madame Bianca poco prima dell'ingresso di Ture è in leggero vantaggio Queen Charlotte davanti a Talete piccola piccola e Pegasus i cavalli entrano in dirittura con Queen Charlotte e Talete in vantaggio davanti a piccola piccola Pegasus lasciala andare e Madame Bianca è sempre in leggero vantaggio Queen Charlotte attaccato all'interno da Pegasus lungo la corda lasciala andare segue piccola piccola e Talete passa Pegasus davanti a Queen Charlotte e lasciala andare in leggero vantaggio Pegasus davanti a Queen Charlotte lasciala andare piccola piccola la porta la porta Grazie. Grazie.